Ora parliamo di teatro, successo al Quirino di Roma per la classe, uno spettacolo che evidenzia il disagio giovanile nelle periferie più degradate delle nostre città. Ce ne parla Paola Marinozzi. Aspettano acquattati come animali il momento giusto per saltare su una nave o nascondersi sotto a un cambio. Ma li ha visti? Ce l'hai di tutti i tipi? Appena fuori la città c'è un vasto campo profughi, in fuga da una sanguinosa guerra civile. Lo chiamano zoo e sta deteriorando il tessuto sociale già sull'orlo del collasso. A pochi chilometri in una scuola superiore di periferia, Albert, insegnante di storia, ha l'incarico di tenere un corso di recupero disciplinare per sei studenti problematici. Nella classe c'è rabbia, malessere, ma il giovane professore riesce a poco a poco a far breccia nel loro disagio. Parla la nostra lingua? Mi capisci quando parlo? Io non ti do nessun foglio presenze. E' quello di far capire ai ragazzi l'importanza del fallimento. Il fallimento in quanto occasione per conoscere, occasione per conoscersi e occasione per mettere le basi per la ripartenza. La differenza tra il fallimento e la sconfitta. La sconfitta sembra che non ci sia redenzione, rimedio. Mentre il fallimento è un'occasione di acquisire nuove cose che poi servono per costruire quello che sarà. Il testo del drammaturgo Vincenzo Manna attrae ovunque una platea di giovani. Seguono con interesse questa storia legata ai nostri tempi. Ed è stato anche un esperimento di data storytelling. Cioè abbiamo fatto delle interviste a dei giovani tra i 16 e i 19 anni. Questa è un po' una particolarità anche dello spettacolo. Ci siamo documentati. Coniuga vari registri. Il drammatico, l'ironico, il tragico. Perché franta e variegata la realtà contemporanea che stiamo vivendo. Funziona così. Prima sospensione. Seconda sospensione. Poi se continui i servizi sociali. E poi non lo sapevo. Io sono il preside di questa classe. Un preside ormai arrivato alla pensione. Però ha anche una funzione importante che è quella del narratore. Un narratore anche molto poetico. Dove la sua esperienza gli fa paragonare i ragazzi alle galline. Che sono dei volatili. Però non possono volare perché hanno le ali piccole. Però hanno le zampe forti e potrebbero arrivare in tre giorni sulla luna. Vivolo in uno stato di costante allarme. Se ti avvicini e ti guarda con sospetto. Si blocca una guardiglia o una zappa in su. Ma in realtà dopo una vita relativamente tranquilla. Mangiano, dormono, s'accoppiano.